di solito mi alleno due ore al giorno a parte tre giorni a settimana che mi alleno tre ore faccio pure palestra io mi alleno da quando circa cinque anni quindi per dieci anni quello che mi spinge sempre andare più avanti l'allenamento è il fatto di cercare di migliorare di raggiungere un obiettivo sempre più difficile superare me stessa prima di cominciare allenamento di solito passo un quarto d'ora fare stretching a bordo vasca ed elastici per scaldarmi bene prima di cominciare l'allenamento per me fare il riscaldamento è molto importante perché senza di esso farei molto fatica a cominciare allenamento la parte più importante dell'allenamento è sicuramente i lavori centrali quelli dove bisogna impegnarsi molto perché in quelle parti lì è lì che si costruisce la gara e quindi bisogna stare sempre attenti e lavorare bene con la testa oltre agli esercizi di velocità e di forza che facciamo in allenamento sono molto importanti anche gli esercizi di tecnica perché nel nuoto gli esercizi di tecnica sono fondamentali poiché se non si sa nuotare è molto difficile andare avanti in allenamento facciamo tecnica su tutti gli stili più proviamo anche molte partenze virate arrivi poiché in gara sono parti fondamentali durante allenamento a volte mi capita di essere stanca ma quello che mi porta sempre andare avanti è il fatto di voler migliorare migliorare me stessa i miei risultati quindi cerco sempre di dare il cento per cento e a volte scordarmi che sono stanca e andare avanti a mio parere è molto dura però se si è fatto bene puoi raggiungere risultati molto importanti che portano grandi soddisfazioni